Collaboro con questa associazione dal 2019 e mi sono occupata di tanti progetti a partire da quello di prevenzione dentale Achilles sul confine turcosiriano fino a lavorare un pochino più in modo approfondito all'interno delle baraccopoli. Sono stata due volte a Corogosho, che è una delle più grandi baraccopoli dell'Africa e è stata un'esperienza molto forte, chiaramente. Quello che ho fatto io e che sono riuscita a portare è stato relativo a un progetto di fotografia. In pratica seguivo dei ragazzi, nel doposcuola soprattutto, per dare loro la possibilità di approcciarsi al mondo della fotografia per trovare una strada, un'alternativa, un tipo di arte che avrebbe potuto loro dargli la possibilità di esprimersi e raccontare la loro storia. Questo è stato possibile soprattutto grazie alla costruzione dello Smiling Center, che è un centro polifunzionale che è stato costruito da pochi mesi, dove all'interno vengono svolte una serie di lezioni nel doposcuola, chiaramente, dall'informatica alla fotografia, teatro, musica e arte. E io mi sono occupata principalmente della fotografia.